benvenuti in un nuovo video ebbene si siamo ritornate per poco poi riscompariremo con la degusta fox dia agosto è arrivata già oltre una settimana fa ma la stiamo aprendo solo oggi che è 17 giovedì 17 è arrivata quindi non ci resta che aprire io sono un po' allora lei è orrendo dal mare e sembra più abbronziata di me io ho fatto una settimana di mano una giornata di piscina in faccia non mi abbronzo perché la protezione messa bene tutto l'anno la cura per il viso vediamo 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 ok molto colorata la vedo molto fina mister brownie mador adoro chocolate brownie adoro se riusciamo a passaggiare qualcosa e facciamo anche un mini video assaggio vediamo un po quello che esce perché un po di prodottini mistici li abbiamo adoro brownie wow faccio vedere quello che avevo visto così togliamo lo spoiler questi li avevamo già provati sono buonissimi questi sono i miei preferiti erano buonissimi buoni 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 gli altri non mi piacevano no non serve proprio di niente top questo è pure gluten no 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 abbiamo sbagliato ok comunque sono questi poi della roberto sono i crocchini mignonne c'ho l'odore di rosmarino questo stavo dicendo mamma però mi è arrivata proprio la ventata rosmarino e sale peredì trovate la nonna le prenderà sempre quelli lunghi centrari alla tavola di domenica adoro wow oddio si sente proprio questi momenti stanno aperti ma la venta sono aperti no eh no dignità io hai come la vedi questa box pieno liquidi acqua all'altro è acqua all'altro sembra tipo vermicelli wow solo che non si sono attaccate no no sono sempre preparate oh zi mil non ho l'attoccato di naso latte zi mil senza lattosio benefit latte ricco di proteine per la massa muscolare per i nostri bellissimi muscoli e domani faccio un bel vlog oppure il pane proteico ci sta ci sta domani vlog wow che bello peroni non filtrata colore un po' chiaro non filtrata colore opaco questo è per te l'hanno fatta proprio un po' vinteggia non filtrata dopo tanti anni stavo registrando ciao ciao ci facciamo vedere guarda che ho visto è la marinatura per il pollo wow ma che bello guarda marinatura orientale che è da carne buona ma ci sono nel sacchetto si macchio della maionese ma vabbè che figata dobbiamo fare il pollo dobbiamo fare il pollo beretta stick salame che c'è? salame salame proteine stick ricco di proteine è l'ultimo penultimo prodotto bello guarda come è carino sono i kit cut questa è una super novità no ma quelli c'è i pancake che tu vuoi mangia? che tu vuoi mangia? no agli altri no agli altri no ma premo qualcosa di qua fai bravo allora kit cut sono i nuovi cereali no vabbè questi nemmeno dai però da voi lo facciamo questa è una box mi è piaciuta molte novità c'è pure un altro prodotto oh questi costano tantissimo io l'ho vista pure sui 4,50 euro io non l'ho mai vista però abbiamo i ti dicono che non sono tanto buoni cereali integrali che carini vai ti faccio l'onore di prendere l'ultimo prodotto spaghetti gluten free gluten free senza glutine glutine ma è sirisa e quinoa ma provate prodotto del mese sono i brownie 2,25 euro poi i salamini 2,59 latte zimil 1,99 develey sarebbe la marinatura 1,99 ce n'era anche un altro pittante sicuramente non posso capire poi spaghetti 1,79 la peroni non filtrata 2,50 euro goleador strings 2,49 i crocchini i grissini Roberto 1,39 cereali kit kat 3,99 ma possono pure 4,50 euro oroshock mini cookies 2,29 euro io sono rimasta molto soddisfatta sicuramente voleva un po' di si si voglio vedere che cos'è vabbè questa è la cool box dopo che non prenderemo nulla noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao